La Commissione delle Pari Opportunità 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 Non è solo una questione di donne tra donne La Pari Opportunità è lotta contro ogni discriminazione Ovunque essa sia nidi Da chiunque sia commessa E contro chiunque sia perpetrata E questa è la logica unica che unifica Tutte le grandi direttrici Da ultima la mia direttrice programmatica Sarà quella di far sentire la mia voce Nei tavoli istituzionali Nei quali la consigliera di parità siede Perché la consigliera di parità è membro di diritto Sia di tavoli nazionali che di tavoli locali Nei tavoli nazionali proprio domani Mi insedirò per la prima volta nella conferenza nazionale Delle consigliere di parità Dove mi auguro di recepire le buone prassi Che vengano eventualmente realizzate in altri territori Per poterle attuare nel mio territorio Replicare nel mio territorio Ma mi auguro anche di poter disseminare i risultati E pubblicizzare gli eventuali successi Che potremo ottenere noi Con azioni positive a tutela Dei soggetti discriminati Che potremo realizzare nel nostro territorio 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 Che potremo realizzare nel nostro territorio